Tino! 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 Oh accendila! Non sono stato io, è un interrogatorio? Quasi. Quasi. Sai dove stiamo? Sì, del rumore capisco. Ora che ha acceso la luce te lo posso anche dire io. Siamo nel canile comunale di Via Lindemann, nella zona industriale di Bari, dove ovviamente, l'avrai capito, non c'è la luce e quindi hanno chiamato a noi per mettere il faretto. Illumina i cani, vieni Tino, illumina i cani. Li vedi? Sì. Ok. Allora praticamente lo denunciamo da una vita. Mangla luce, non c'è la luce. Tino ci sei? Ci sei? Ci sei? Sì, ci sei. Mangla la luce. E c'è anche un altro problema importantissimo, Tino. A parte che la struttura andrebbe un po' ritoccata. Ma, chi lo gestisce, avanza soldi. Uno. Non da te. Anche se tu non paghi, tu non paghi mai. Avanza il saldo del 2020 e ha avuto solo un acconto dei primi sei mesi del 2021. E beh, che tu vuoi che sia? Siamo appena al decimo mese. Non capito, ma come si afface? Se è pure comunale, come si fa? E comunale avanza. E dovrebbe invece essere più celere la cosa. Anche perché, caro Tino, Tino io non sto vedendo niente, io mi fido che sei tu, puoi essere chiunque. Vai intuito, vai vai. Vai intuito. Intuitui persone. E sai perché? Perché qualche cosa sta succedendo. Perché anche il carile sanitario, altre strutture, si stanno lamentando che nel corso non vai. Se il carile sanitario piove dentro la struttura. Qua sta piovendo forno, noi siamo all'addiaccio. Noi siamo proprio come i cani randaggi, all'addiaccio. nessuno ci dà un croccantino. A quest'ora poi servirebbe, magari, pre-cena. A quest'ora pasta al forno. Pasta al forno, però un qualche cosa. Vabbè. Tino, io sapevo che sarebbe andata a finire così. Come sempre. La batteria è carica? No. Io non vedo veramente. Non ti preoccupare, sei tranquillo. Vabbè, allora, restiamo qua. Purtroppo ti vedo io. Ti tengo l'ombrello se vuoi. Brava, ecco, magari. Ti tengo l'ombrello, però tu resta qua col faretto, dai un illuminato al generale. Allora, illumini i cari, Tino. E il illuminato, ciao. E al comune, pagate, pagate. Torna presto. E se ti lasciassi qua, Tino? Ma no! Che fa? Tino, che fa? L'hai vista? No. È passata. Eh. Tanta era. No. No, non mi ha morso, non mi ha morso lei, quella è un'altra cosa. Stanno, Tino. No. E litigano fra loro, eh. Eh beh, c'è. Sarragan. Eh. Squittiscono in maniera violenta, eh. Violenta. Squittiscono in maniera violenta, ma lo fai bene. Però, il comune, secondo quello che abbiamo saputo, dove sta l'obiettivo? Aspi. Sì. Secondo quello che abbiamo saputo, ha scoperto, che il topo, arriva dall'esterno. Beh, grazie. Quindi che ha fatto? Ha messo tutte le retine sotto, per evitare che, e tu i dovini che fanno? Quelle saltano. Bravo, scavalcano. Perché il topo scavalca, e c'è passato proprio uno grosso, te lo ripeto, non mi ha morso, è così, e passa proprio sotto i nostri piedi. Beh, ma potete riprendere? E non ho retine. Lo facciamo? Non ho retine. Se avessi avuto retine, mamma mia. Vabbè. Ciao, eh. Continuo, Tino, continuo. Vabbè.